Da oltre 45 anni aiutiamo le persone nei paesi più poveri del mondo. Nell'ultimo anno abbiamo portato aiuto concreto a 3,7 milioni di persone. Abbiamo visto rinascere la speranza in oltre 23.000 bambini e ragazzi, grazie a 19.000 donatori che li sostengono a distanza. Abbiamo offerto formazione professionale a migliaia di donne di tutto il mondo, che hanno riacquistato fiducia in loro stesse e nel loro presente. Abbiamo coinvolto imprese locali, creato opportunità di lavoro per uomini e donne all'interno delle proprie comunità. Abbiamo fatto dell'innovazione digitale un elemento chiave per lo sviluppo dei nostri progetti. Nel 2018 abbiamo registrato un bilancio complessivo di oltre 68 milioni di euro, tra contributi pubblici e donazioni di privati. Per ogni euro che riceviamo, oltre 85 centesimi sono destinati ai progetti. Crediamo in ciò che facciamo e credono in noi i milioni di persone che accompagniamo a diventare protagoniste delle loro vite. Per questo, AVSI è al lavoro.